Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono pochi e oggi siamo tornati qui sul Super Mario 64 DS, nella scorsa parte abbiamo preso una stella da Gelly Rogers, per sì, oggi invece cerchiamo di prenderne un'altra, ok, ah sono le monete rosse, mi sembra di ricordare che devo prenderne 8, infatti, credo, si, se le hai molto domingato devo prenderne 8, se le hai molto domingato devo prenderne 8, eh? ah 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 no no, ecco, si devono giù ah, scusate ok, ci siamo di nuovo non so che cosa ho attivato, allora, non so che cosa è successo ma non si sente più a scatti non so che cosa è successo, ma non so che cosa è successo ma non so che cosa è che scatto si sente ancora? Anzi, si sente troppo. Vabbè. Ok. Bene ragazzi, io direi che per questa parte può essere tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!